Taxi ed NCC, noleggio auto con conducente, potranno far servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità. L'autorizzazione è arrivata dalla Giunta regionale toscana con una delibera presentata dall'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. Tassisti ed NCC, quindi in via temporanea e soltanto per il periodo dell'emergenza da coronavirus, potranno prelevare i beni di prima necessità direttamente dai produttori, dai commercianti o dagli altri operatori abilitati e recapitarli presso il portone o l'accesso carrabile o pedonale della casa del destinatario. Questo servizio può essere regolamentato da parte dei comuni che ne determinano anche le tariffe. Ma qualora il comune non provvedesse a questa regolamentazione, i possessori delle licenze in questione possono semplicemente attraverso una comunicazione certificata all'indirizzo di posta elettronica del comune dove operano dare il via a questa attività. Non sono quindi necessari ulteriori adempimenti. Crediamo di dare un contributo per contrastare appunto la diffusione del virus e di poterlo fare attraverso un servizio che causa questa emergenza in questo momento è assolutamente sottoutilizzato.